Rosso come la passione, come il rione Moncioveta. Buonasera da Rinaldi Valentina e dal capitano del rione Riccardo Mencarelli. Buonasera. Buonasera a tutti. Volevamo sapere in che cosa consiste la sfilata, innanzitutto il titolo, e in che cosa consiste questa sfilata a grandi linee. La sfilata si intitola Non c'è posto migliore e la trama è ispirata al racconto del mago di Oz, come si può vedere anche un po' dalla maglietta che quest'anno abbiamo fatto appositamente per la sfilata. Per cui la trama è indicativamente la stessa del racconto e ovviamente un pochino rimodificata per delle esigenze di piazza. Non svelo nulla però perché se no ci sarebbero troppi retroscena che devono essere invece goduti appieno durante la sfilata. Però invece ci può dare qualche anticipazione su un effetto particolare, su quale puntate, oppure una parte recitata, sulla quale puntate per vincere? Allora questa è una domanda difficile perché quest'anno noi abbiamo puntato molto su tanti effetti speciali, su tanti personaggi, su tanti costumi e su tanti oggetti di scena. Per cui non saprei veramente quale scegliere, a partire dalla scenografia, tutti i carri, costumi, oggetti di scena, anche dialoghi particolari fra attori. Quindi non saprei veramente che cosa scegliere tra tutte queste cose che noi quest'anno abbiamo puntato a portare in alto. Allora ci incuriosisce, grandi aspettative, in bocca al lupo e buon lavoro. Crepi, grazie a voi. Allora ci incuriosisce, grandi aspettative, in buon lavoro. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti